Era qualcosa di completamente diverso da ciò che avevo conosciuto fino a quel momento. Tanto che non sapevo dove collocarlo. No, non conta. Tantissimi ammalati, su sedi a rotelle, parelle, e poi tutto ad un tratto alcuni si sono alzati. Una delle persone che giacevano sulle barelle si alzò e disse, sto bene, sto bene. Sentì una corrente attraversare il mio corpo, la paralisi era scomparsa. In quel momento provai a muovere il braccio. Era immobile da anni e il braccio si raddrizzò. Non sentivamo più addosso alcuna malattia. Era passato tutto. Io, io, io ci rivedo. Ero talmente impressionata e colpita da quello che avevo visto e sentito. Quando il film terminò, ero felice. Tutti i valori migliorarono. Vertraue e credo. Es hilft. Es heilt. Die göttliche Kraft. Grazie. 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 Grazie.